Ok, salutate ragazzi e ragazze con l'Oriviaggio3 che vi parla, siamo tornati con il prossimo video e oggi abbiamo raggiunto i 50 iscritti è un record che non mi aspettavo, ho registrato questo video tutto di fretta voi forse lo vedrete che saremmo qualche iscritto in più ma ok, non mi sono neanche attaccato il microfono qui come il mio solito perché era una cosa che dovevo fare di corsissima, proprio velocissimamente domani uscirà un video in cui vi farò vedere la sorpresa di fine luglio scusate se non è uscito quando doveva ma purtroppo non sono riuscito perché si deve ambientare questa cosa che c'è è già uno spoiler, ma vedrete il video domani ringrazio tutti per aver raggiunto questo traguardo perché l'abbiamo raggiunto insieme, l'ho raggiunto io, l'avete raggiunto voi mi raccomando, c'è un sacco di gente che guarda i video ma non è iscritta iscrivetevi al canale per entrare a far parte del team di viaggiatori attivate la campanella e le notifiche su tutte e niente raga, vi ringrazio ancora e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao